Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Poppea, la perturbazione prevista dagli esperti ha travolto il nord Italia. Da ieri sera si susseguono acquazzoni e veri e propri nubi fragi. Dal pomeriggio particolarmente colpita la zona della bassa Padovana, in particolare Montagnana, dove sono caduti anche alberi e pali della luce, decine gli interventi richiesti ai vigili del fuoco. Una violenta grandinata ha interessato anche la zona di Este. Tutto il resto del Veneto invece è stato interessato da veri e propri nubi fragi, con ovviamente allagamenti in varie zone. Le temperature si sono notevolmente abbassate. Nelle prossime ore non sono previsti miglioramenti. Il giudice del Tribunale di Venezia ha ordinato all'ospedale di Brescia di continuare le cure con la metodica stamina sulla piccola Celeste. L'ho annunciato Marino Andolina, il pediatra che segue la piccola. Andolina ha espresso grande soddisfazione per il pronunciamento del magistrato. Il medico che cura la bambina di due anni malata di atrofia muscolare spinale ha detto di ritenere che il giudice abbia aperto una pagina fondamentale. in Italia ci sono mille pazienti almeno che attendono questa cura e per loro ora si apre una strada nuova di speranza. E cambiamo purtroppo argomento, parliamo di una gran brutta storia che arriva da Padua, dalla provincia. Una storia agghiacciante. Una minore per tre anni ha subito violenze sessuali, ma non solo, da tre suoi coetanei. Grazie ai carabinieri di Albignasego l'incubo è finito e ora i tre sono stati inseriti in una comunità. Ma sentiamo che cosa è accaduto. Una storia drammatica arriva dalla provincia di Padua dove una ragazzina per tre anni è stata costretta a subire violenze sessuali ma anche botte, rapine e minacce. Una storia agghiacciante nella quale vittima ai mostri sono tutti minori. La ragazzina con grande forza, dopo aver raccontato tutto alla mamma, si è rivolta ai carabinieri che hanno messo fine a questo calvario terribile. I carabinieri di Albignasego hanno ricostruito tutta la storia e avviato indagini al termine delle quali hanno individuato i tre aggressori. Hanno tutti meno di 18 anni e pare siano di nazionalità moldava. Secondo le ricostruzioni degli uomini dell'arma, la ragazzina veniva sottoposta ad abusi di vario genere e con l'uso della violenza fisica la costringevano anche a consegnare loro del denaro. Alla conclusione delle indagini, il GIP del Tribunale dei Minori di Venezia, Federica Purgoli, tenuto conto della pericolosità sociale dei giovani al fine di proteggere l'incolumità della vittima, ha disposto come misura a cautelare il collocamento dei tre in una comunità. È stato ripescato nel pomeriggio a Bovolone nel Veronese il corpo senza vita dell'uomo polacco di 42 anni ha negato domenica scorsa assieme a un connazionale nelle acque del canale Bon Giovanna a Vallese di Oppeano. Ieri, dopo tre giorni di scandagliamento, le ricerche erano state sospese. Questa mattina il corpo è riaffiorato nelle vicinanze della piazza centrale di Bovolone dove sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della Salma. Lunedì pomeriggio a Campagnola di Zevio era già stato ripescato il corpo di Pawe Ladria Matica, vent'anni che si era attuffato per aiutare l'amico in difficoltà, annegando anche lui. Abbiamo parlato in questi giorni di operazioni sul territorio padovano per contrastare la criminalità. L'ultima in ordine di tempo si è conclusa nelle ultime ore e ha impegnato 250 uomini dei carabinieri. Sentiamo. Padova ancora sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno condotto un'operazione sul territorio cittadino per contrastare la criminalità. I controlli effettuati sia nei centri abitati che nelle zone rurali hanno interessato principalmente i luoghi e gli obiettivi che per caratteristiche e peculiarità risultano sensibili sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica. Impegnati 250 uomini dell'arma che hanno setacciato il territorio controllando locali pubblici, edifici abbandonati e l'area della stazione. Controllate 1.286 persone e 767 veicoli. 9 persone sono state arrestate per reati legati al traffico di droga e furti. Si tratta di cittadini italiani e stranieri. 23 le persone denunciate. E adesso una notizia che arriva dal mondo dello sport, del calcio. Il portiere Luca Anania è del calcio Padova. Il giocatore è stato trasferito al Padova dal Pescara a titolo definitivo e ha sottoscritto con la società Biancoscudata un accordo della durata di due stagioni. Nell'ambito della stessa operazione il Padova ha ceduto a titolo definitivo al Pescara il portiere Ivan Pellizzoli. Anania ha già superato positivamente le visite mediche ed è ora a disposizione della squadra. In Italia a fronte di una diminuzione delle imprese di casa nostra vi è un aumento di quelle di cittadini stranieri. Sentiamo la situazione in base alle rilevazioni che sono state effettuate dalla Fondazione Leone Moressa di Venezia. La crisi economica ha portato ad un calo delle imprese italiane di oltre 28 mila unità. A fronte di questo dato allarmante ce n'è un altro che fa riflettere. Le aziende straniere sono in aumento di 26 mila unità. In Italia le imprese straniere sono il 7,4% del totale. Il dato emerge da una rilevazione effettuata dalla Fondazione Leone Moressa di Venezia. I dati sono riferiti al 2011. Nonostante le problematiche che affliggono il bel paese, per gli stranieri che hanno avviato un'attività in Italia, i dati sono dunque positivi. Reggono la crisi e anzi investono. Secondo la rilevazione, quando avviano un'attività imprenditoriale, gli stranieri preferiscono costituirla insieme a connazionali oppure avviando direttamente imprese individuali per conto proprio, piuttosto che mettersi in società con italiani. Il maggior numero di attività condotte da stranieri si concentrano in Lombardia, e in una classifica che fotografa il territorio nazionale a livello regionale, il Veneto si colloca al quinto posto come numero di imprese. Secondo la Fondazione, lo studio evidenzia, nonostante la crisi, una realtà dell'operatività estera sul territorio vivace in evoluzione. Secondo i ricercatori, in futuro ci potrebbero essere nuove possibilità di sviluppo attraverso società miste e integrate. Anche nel Vicentino i controlli della Guardia di Finanza hanno evidenziato furbate messe in atto da gestori di distributori di carburanti. Varie le truffe e i danni degli automobilisti che venivano effettuate dall'erogazione minore di quanto appariva sul display, per quanto riguarda ovviamente i danni ai cittadini, all'individuazione di violazioni di carattere amministrativo. È scattato il sequestro di quattro colonnine e pistole erogatrici di carburanti, oltre alla denuncia di un gestore. Le ispezioni sono state effettuate nel capoluogo berico e ad Arzignano. Dai sacchetti di plastica, le lampadine a incandescenza, ma anche elettrodomestici di classe E, F e G. Ecco chi andrà in pensione. Sacchetti di plastica, lampadine ad incandescenza ed elettrodomestici energivori sono tutti prodotti che andranno in pensione. Ebbene sì, questi prodotti stanno piano piano sparendo dal mercato. Il via è stato dato nel 2009 in base alla normativa europea sull'eco-design, quando è scattato il divieto per le lampadine ad incandescenza di potenza superiore ai 100 Watt. Un anno dopo è stata la volta di quelle da 75, mentre nel 2011 il bando è stato esteso anche alle lampadine da 60 Watt. E dal 1 settembre di quest'anno, invece, scatta il divieto di vendita anche per quelle di potenza compresa tra i 25 e i 40 Watt. Si dovrà invece aspettare il 1 settembre 2016 per l'estensione del divieto anche alle lampade alogene e a bassa efficienza. Dal 1 gennaio 2011 il divieto di circolazione è scattato anche per i sacchetti non biodegradabili, per l'asporto delle merci. E in questo modo, dopo 50 anni, l'Italia ha salutato lo shopper di plastica nato nel lontano 1957. Ad aver subito recentemente un restyling troviamo anche i televisori che dal 30 novembre 2011 hanno l'obbligo di arrivare sugli scaffali con tanto di etichetta energetica, con i voti A+, A++ e A+++. Entro il 2020, invece, spariranno EFG, in pratica le classi indicanti l'efficienza energetica più bassa. Di prossimo arrivo, invece, è l'etichetta energetica per i pneumatici che diventerà obbligatoria dal 1 novembre 2012. Un passo importante, visto che circa il 20% del consumo di carburante di un veicolo dipende dai pneumatici e in particolare dalla resistenza al rotolamento. Una sua migliore resistenza, infatti, riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di proroga del termine di scadenza della sospensione degli addempimenti e dei versamenti tributari per gli eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dello scorso mese di maggio. Il 24 agosto il ministro dell'economia Vittorio Grilli aveva firmato il decreto che proroga il 30 novembre 2012 il termine. Si è concluso in Veneto il Campus Avventura per ragazzi che sono stati protagonisti di spettacolari esercitazioni. Vediamo le immagini e le interviste. Si è concluso a Cesuna di Roana, sull'Altopiago di Asiago, il Campus Avventura della Protezione Civile, dedicato ai ragazzi dai 7 ai 13 anni. Il tutto alla presenza dell'assessore regionale Daniele Stival, di vari amministratori dei comuni dell'Altopiano, di esponenti delle province e del grande mondo del volontariato che opera nel settore. I ragazzi veneti, circa una settantina, si sono cimentati nei collegamenti radio, con unità cinofila, a soccorrere persone infortunate e anche a spegnere un incendio con anessa prova di evacuazione. L'iniziativa è stata voluta dalla Regione Veneto e organizzata dal Centro Regionale di Protezione Civile con la collaborazione della cooperativa Terre di Mezzo e di numerose associazioni di volontari e ha permesso per una settimana ai ragazzi di essere a contatto con le più frequenti situazioni di pericolo nelle quali si può trovare un qualsiasi cittadino e può essere necessario l'intervento della protezione civile. Divisi per gruppi e rotazione nel corso della manifestazione pubblica conclusiva, i protagonisti sono stati guidati e istruiti da esperti volontari. L'assessore Stival si è intrattenuto a lungo con i ragazzi e ha constatato che si sono molto divertiti imparando e hanno scoperto un mondo a loro sconosciuto, la solidarietà. Ma se il futuro è giovane, i giovani devono essere protagonisti, non solo per il futuro ma anche nel presente. La Regione del Veneto crede che iniziare dai giovani o sensibilizzare anche i giovani a una cultura della protezione civile, a una cultura del volontariato, a una cultura dell'emergenza sia fondamentale perché riteniamo che tutti i 4 milioni e 900 mila cittadini del Veneto debbano essere sensibili alle emergenze e sensibili quindi alla protezione civile. E a questo proposito anche con l'Istituto Scolastico Regionale vogliamo andare in tutte le scuole, possibilmente toccando i ragazzi dei 16-18 anni quindi in questa prima fase le scuole superiori per far sì che questa cultura del volontariato, questa cultura della protezione civile entri nelle scuole e attraverso le scuole possa poi alimentare e far crescere questa grande famiglia del volontariato di protezione civile. Continuano le indagini per identificare il pirata della strada che a quinto di Treviso ha investito e ucciso una donna in bicicletta. L'incidente è avvenuto l'altra sera, vittima innocente di questa tragedia è Lucia Cendron, 57 anni, che nella caduta ha battuto la testa in maniera fatale. Le indagini sono serrate, ci sarebbero molti elementi che porterebbero ad una persona precisa. Intanto il capo della polizia stradale lancia un appello all'investitore perché costituendosi spontaneamente alleggerirebbe di molto la sua posizione. Ha guidato per 44 anni senza patente, protagonista della vicenda, un uomo di 70 anni del Trevigiano che nel lontano 68 era stato privato della patente in seguito a un incidente stradale. Doveva rifare la procedura da capo ma dopo l'esame era stato bocciato e così ha deciso di continuare a guidare pur non avendo nessun titolo. In questi 44 anni gli è andata bene fino all'altro giorno quando è stato fermato durante un controllo in via Castellana ed è emersa la situazione. Ovviamente increduli gli agenti. Si è tenuta questa mattina a Palazzo Nievo, sede della provincia di Vicenza, la conferenza stampa per la presentazione dell'edizione 2012 dell'antica Fiera del Socco a Grisignano di Zocco. Sentiamo i particolari. È ormai in astri di partenza. Da venerdì 7 fino a giovedì 13 settembre inizia quello che è uno degli appuntamenti più attesi della provincia di Vicenza, l'antica Fiera del Socco. Una manifestazione antichissima, pare che sia nata già nel 1300 e quest'anno, il 2012, sarà all'insegna come sempre delle tradizioni ma anche della solidarietà. Si aprirà infatti una serata prima, giovedì 6 settembre, con una serata di beneficenza a favore del comune di Novi in provincia di Modena, uno dei tanti comuni dell'Emilia colpiti dal terribile sisma del maggio scorso. È una Grisignano nuova quest'anno, proprio vestito a festa e proprio detto bene perché abbiamo riformulato la piazza, abbiamo sistemato una delle vie più importanti del paese, che è via Beggiato, abbiamo sistemato l'argine di un fiume importante che attraversa il nostro centro, quindi è una Grisignano completamente nuova. Ci sarà una piazza degli artisti ad accogliere molti visitatori. Noi una caratteristica importante che vogliamo dare alla nostra fiera è proprio l'aspetto della solidarietà, quindi non dimenticare le persone che lavorano nel volontariato, non dimenticare le persone che sono in difficoltà. Allora abbiamo messo in piedi una serata di solidarietà con molte orchestre, che devo ringraziare tutta, non dovrei citarle ad una ad una, ma sono circa una ventina. Le aspettiamo proprio giovedì 6 settembre, quindi il giorno prima della fiera. Ci sarà questo concerto dove l'ingresso è a pagamento, sono 5 euro, spettacolo all'aperto. Abbiamo prenotato il tempo, per cui siamo sicuri che tutto terrà, e quindi aspettiamo numerosi anche per questo evento molto importante, che teniamo veramente a cuore. Quest'anno saranno molte le novità all'interno della fiera, lo abbiamo chiesto al presidente Lorenzo Dainese e all'assessore Nazareno Carraro. Quest'anno abbiamo per la prima volta la collaborazione di due associazioni di categoria, la Coldiretti e la CIA, che all'interno di una piazza vicino alla Via Ungaretti del nostro paese, istituiranno il mercato a chilometri zero. Avremo presenti aziende del nostro territorio con prodotti, da loro prodotti praticamente. Quindi il visitatore avrà la possibilità di toccare con mano quello che è il nuovo progetto che stanno portando avanti queste associazioni, avere i prodotti che dal campo arrivano direttamente al consumatore. Abbiamo chiesto a tutti gli operatori della nostra fiera, agli espositori, a tutti gli esercenti che si districano nei 10 chilometri di bancarelle che abbiamo, di dotarsi di buste, di shopper, come vengono chiamate, completamente compostabili, come la legge lo prevede. E quindi questo è un altro tassello in quello che è il nostro grande progetto, di portare la fiera ad avere un impatto ambientale il minimo possibile. Quest'anno c'è un importante convegno all'interno della fiera del Socco sull'acqua. Sì, diciamo che è nata questa iniziativa appunto parlando con il Presidente Danilo Coman, e qua siamo a riproporre il convegno, diciamo, sull'agricoltura, però l'acqua è un bene comune, un bene dove vogliamo dare risalto proprio all'acqua, e era la persona più importante, più indicata, era proprio il Presidente del Consorzio Brenta, dove diremmo a contatto sia nell'ambito della siccità e sia anche dall'altra parte, quando ci sono le catastrovi, le alluvioni. E' un ritorno proprio a questi tipi di convegno, di informazione, si chiama convegno però l'obiettivo è proprio quello di informare, diremmo, il pubblico e le persone. E adesso parliamo di arte e fotografia, domani è l'ultimo giorno per chi volesse partecipare ad un concorso indetto a Vigo d'Arzere ma aperto a tutti, scopriamo come si fa e come partecipare. Scadono domani le iscrizioni al decimo concorso fotografico indetto dal Comitato Spontaneo per la Salvaguardia del Territorio di Vigo d'Arzere nel Padovano, un'iniziativa giunta alla decima edizione che ogni anno richiama tantissimi appassionati. Un concorso che si svolge a Vigo d'Arzere ma è aperto a livello nazionale. Tema di quest'anno scoprire il Triveneto, terra di storia e cultura, borghi, castelli, città murate, palazzi con i loro portici e portoni. Un tema ampio che sicuramente darà spazio alla creatività per la grande passione della fotografia. Dunque domani sarà l'ultimo giorno per la consegna delle opere. La giuria si riunirà il 3 settembre e il 5 verranno resi noti i nomi dei vincitori. La mostra delle opere ammesse e premiate, come pure la premiazione, avrà luogo al centro parrocchiale di Vigo d'Arzere in via Pio X. Ulteriori informazioni sono visibili sul sito internet www.marisastoria.it. Ed ora diamo uno sguardo alla situazione meteorologica prevista da domani. Il secondo LARPAV di Teolo da sabato si isolerà un nucleo depressionario sul Mediterraneo occidentale che determinerà condizioni di variabilità nei giorni successivi ancora con precipitazioni e con temperature massime inferiori alla media del periodo. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. Grazie.